io vi posso garantire che questo progetto qui è più unico che raro alfa 75 social edition allora ti starai chiedendo perché è unico il progetto si chiama alfa 75 social edition e qua l'utente può scegliere ogni cosa che io andrò a fare ora le prime due scelte le abbiamo fatte su instagram e su facebook perché ho potuto mettere delle foto e non aveva senso creare dei video perché non avevo tipo non avevo i cerchi da metterli a confronto non potevo creare il video quindi ho fatto così pubblicato delle foto su instagram oppure su facebook e hanno scelto questo cerchio qui bellissimo questo qui bellissimo tanto l'hanno scelto perché non pagano loro cerchio e assetto regolabile a ghiera by mastello parts la prossima settimana andremo a scegliere il colore e dobbiamo fare il banno motore dobbiamo fare delle modifiche al motore ci sono tantissime scelte da fare e vi faccio scegliere tutto voi ma chi lo farebbe mai cioè io la macchina mia l'ho pagata io la voglio far blu la faccio blu invece no la vogliamo far verde vogliamo fare il verdone alfa romeo gta faremo il verdone alfa romeo gta quindi secondo me secondo me il progetto è bellissimo è bellissimo tanto se la macchina farà cagare è un po anche un po anche colpa vostra perché avete consigliato voi bisogna vedere gli abbinamenti cromatici quindi sai fa il verde dopo bisogna fare anche i cerchi modificare però non c'è nessun problema un'altra cosa che abbiamo scelto io anche lì ho postato una foto su facebook e la vogliamo far senza stucco un restauro senza stucco non lo so non lo so sarebbe bello sarebbe bellissimo tirarla tutta la miera e farla senza stucco però vedremo perché comunque è un po ondulata presenta un po di stucco non è ecco c'è delle botterine c'è delle la macchina 30 anni non puoi pretendere però faremo faremo del nostro farò del mio meglio quindi voi scegliete soltanto quello che io devo fare e io farò come dite voi